vi dico che ho riflettuto a lungo sul fatto di mettere o meno un punto di domanda nel titolo che leggete o avete letto e dopo i primi test fatti con questo Honor, dopo le analisi di XO Mark e dopo aver visto un po' tutte le recensioni soprattutto del panorama italiano vi dico che i dubbi sono scomparsi il punto di domanda non ci va. In ogni caso però anziché dedicare l'intero video a questa cosa ho voluto approfittare del fatto che per Honor sono proprio andato a fare degli scatti in questo caso a Verona e ho potuto un po' conoscere meglio questo smartphone e capire in qualche modo che c'è sempre un problema di fondo ma che tutto sommato si tratta anche sotto certi punti di vista di una casistica un po' particolare. In questo video vi darò un parere un po' più approfondito su di lui vedremo anche un confronto molto rapido su Lightroom insieme a iPhone 14 Pro e cercheremo di capire un po' meglio come si piazza lui nel panorama dei camera phone senza dimenticarci però alla fine di un piccolo lato polemico riguardante appunto tutta la casistica recensioni di XOMARK che hanno investito questo modello. Intanto vi dico che sì prossima settimana arriva anche il video sul kit dello Xiaomi 13 Ultra sono rientrato poco fa tra l'altro da l'ultima sessione di prova e sì arriverà anche un confronto tra il 13 Ultra e l'iPhone 14 Pro visto che me l'avete chiesto in tanti io trovo più sensato attendere all'iPhone 15 però intanto il confrontino già me lo sono fatto e prossima settimana uscirà. Io direi di partire subito con il confronto Lightroom con iPhone 14 Pro che sarà molto molto rapido e poi vi elenco in particolare tre difetti, tre problemi un po' particolari in effetti che secondo me penalizzano molto questo modello al di là dei file che tira fuori che adesso ci guardiamo. Passiamoci su Lightroom, a sinistra avrete sempre iPhone 14 Pro, a destra avete sempre Honor Magic 5 Pro alcuni degli scatti di iPhone saranno in RAW, altri in JPEG e viceversa comunque vi sottolino tutto mentre vediamo il confronto in questo caso siamo sulla Ultra Wide quindi per forza di cose iPhone in RAW e Honor in JPEG vi ricordo che questo Honor purtroppo sulle camere secondarie non scatta in RAW e vi dico che tutto sommato non esce così male, nello scorso confronto c'era stato quello scandaloso dove la mia faccia era praticamente rappresentata con la tecnica dell'acquarello, è un problema che persiste ma non proprio in tutti gli scenari adesso vi faccio vedere. Si vede già dal quadro allargato che secondo me l' Honor soffre un po' dell'esatto opposto di quello che invece è stato un po' annunciato e sbandierato a destra marca ovvero colori troppo saturi, contrasto troppo elevato nitidezza sparata a mille, lo vediamo specialmente qui nelle zone più in lontananza dell'immagine e il tutto non gestito bene come magari fanno altri smartphone tra cui proprio iPhone che non ci dà proprio dei file da look super naturale o ad esempio come il Samsung S23 Ultra. Se andiamo a zoomare lo possiamo secondo me constatare subito, siamo su risoluzioni similari intorno ai 12 megapixel, si è un po' più tagliente l'immagine dell'Honor ma allo stesso tempo laddove le texture si fanno più piccole tutto tende un po' a impastarsi e i colori soprattutto, la più grande cavolata che ho sentito su questo Honor è che ha dei colori particolarmente naturali che addirittura possono in qualche modo far sembrare lo scatto meno interessante, no? Satura a bestia, satura a bestia il cielo e avevo l'intelligenza artificiale disattivata perché c'è pure questa funzione cielo, ho visto dove lo rende ancora più blu, satura un botto i verdi, satura un botto tutto, anche i rossi lo vediamo sui tetti, lo vediamo qui, lo vediamo dappertutto. In termini di definizione qui nelle zone più vicine a noi vediamo che iPhone ha un'immagine più morbida, Honor un po' più di dettaglio ma voi direte che senso ha vedere le immagini così da vicino, no? Ha senso perché poi capiamo il perché della maggior piacevolezza del file di iPhone secondo me in questo caso quando guardiamo l'immagine della sua interezza. Secondo me questa eccessiva nitidezza applicata, un micro contrasto bestiale praticamente rendono il file nel complesso meno piacevole. comunque non è uno scatto da bocciare, è uno scatto che nel panorama smartphone secondo me non si piazza male ma nelle conclusioni ne parliamo alla fine. Vediamo lo stesso scenario col teleobiettivo e vedete che è proprio lampante, l'immagine più contrastata, un po' più satura e con maggior nitidezza applicata. Vediamo quando andiamo ad avvicinarci. Si nota anche qui che questo iper contrasto, questa iper nitidezza secondo me creano artefatti fastidiosi, un effetto un po' acquarello su tutte le texture, la riproduzione dei dettagli un po' più ostici quindi mentre magari sul campanile questo si avverte come una maggior definizione, su altre cose tutto va un po' via via impastandosi e nell'effetto generale io continuo a preferire lo scatto di iPhone in questo caso anche per i colori. Figura umana, sempre camera 3x, questa volta JPEG da entrambe le parti qui secondo me salta subito all'occhio uno sfocato molto più piacevole di Honor che credo abbia un sensore più grande su questo teleobiettivo. Lo sfocato è gestito molto molto bene, anche l'incarnato è piacevole non troppo tendente al rossastro, se la gioca con iPhone che tende molto al rossastro, ha una tinta un po' rossastra nei suoi scatti. Buono, molto buono, molto buono. In questo caso c'è sempre, peccato, questo software troppo invasivo, vi faccio vedere. L'impressione è questa, l'impressione è che la lente dell'Honor si comporti meglio ok? Riesca meglio a catturare i piccoli dettagli ad esempio qui del sopracciglio, ma tutto questo avviene in qualche modo compromesso dal software che crea sempre questo effetto acquarello. In questo caso abbiamo non avevo intelligenza artificiale attiva, ribadisco, questa pelle liscissima, le sopracciglia che sì sono un po' più definite ma sembrano spalmate sul nostro soggetto, dei problemi ci sono anche sull'occhio. Secondo me il look, anche i capelli si vanno impastando in maniera strana, il look in generale è molto più, la resa in generale è molto più piacevole sull'iPhone. A scatto intero non si nota, è comunque un bello scatto quello di Honor per essere fatto con un ultimo obiettivo su smartphone, ma se penso a quello che fanno certi altri super top di gamma, che è la categoria dove lui dovrebbe competere, qualcosa non funziona. Camera 1x, roda entrambe le parti, iPhone sappiamo sfornarò a 50 megapixel, gestione molto 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 diversa, qui iPhone tende forse fin troppo, ma questa è un po' la sua caratteristica, ad appiattire un po' l'atmosfera, l'immagine, a darci più dettagli possibili, la differenza è che a fare questa cosa è in assoluto il migliore, riesce a mantenere un look comunque molto naturale, comunque stiamo scattando in RAW, il file è ampiamente lavorabile, mi dispiace che la posa non ho scattato la foto nello stesso momento, quindi probabilmente la lettura dell'esposizione è un po' falsata, perché qui Honor ha dovuto leggere il volto in ombra, quindi non considero il fatto che l'Onor abbia bruciato il cielo, è ampiamente recuperabile. Abbiamo visto che i file della camera 1x sotto questo punto di vista e non solo, sono molto buoni, la camera 1x funziona molto molto bene, andiamo a vedere in termini di dettaglio, questa volta scattando in RAW e in particolare scattando con la camera 1x, comunque non ci sono particolari problemi invece di effetto acquarello, nitidezza, contrasti, vedete come nel complesso, bello lo sfocato, superiore su Honor e non solo, guardate che aberrazioni sull'iPhone, mentre su Honor tutto sommato sono abbastanza assenti, guardate qui, questo ovviamente con Lightroom le possiamo lavorare per benino, ma intanto notiamo questa differenza. Quindi camera 1x di Honor Magic 5 Pro, che specialmente in RAW, ma anche non in RAW, lavora molto molto bene, quella è diciamo all'altezza della fascia in cui questo Honor si vuole proporre. E con il confronto mi fermerei qui, alla fine è un po' una riconferma di quello che avevamo visto, ma è in una visione un po' meno tragica. Uno, perché forse questo iPhone non scatta proprio come il 13 Ultra, ma lo vedremo prossima settimana. Due, perché nell'utilizzo su strada, in scenari diversi, questo Honor dimostra comunque di tirare fuori dei file che bene o male funzionano, che sì, soffrono di alcuni difetti, ma che, specialmente nel caso della camera 1x, non sono così tragici come mi sembrava. E perché anche mentre scattavo a Verona, se qualcuno mi segue su Instagram, se non lo fate, fatelo, magari avete visto una storia che ho pubblicato mentre stavo lì a scattare, la situazione mi sembrava con questi scatti così tragiche. Vi voglio segnalare tre difetti di cui vi parlavo, di cui un primo, che è proprio un'anomalia che non mi è mai capitata, anzi di solito mi capita il contrario, ovvero un problema con il display. Il display di questo Honor è un ottimo display, molto luminoso, ben definito, non ho notato particolari problemi, anzi vi dico è più luminoso di quello del 13 Ultra, poi Xiaomi mi spiegherà perché sull'Ultra c'è un display meno luminoso rispetto a quello del Pro, vabbè. Il problema è proprio la visualizzazione delle foto. Cioè forse, non lo so qual è il motivo, ma vado per ipotesi, forse questi file che sono così iperdefiniti, nel senso carichi di questa intidezza e di questo microcontrasto, su una superficie più piccola soffrono di aberrazioni strane dovute proprio alla dimensione su cui si sviluppano. In ogni caso, sia dentro all'app camera, mentre scatto, che poi nel rivedere le immagini in galleria vi assicuro che i file sembrano molto, molto, molto più brutti di come in realtà poi mi sono apparsi al PC, di come poi adesso le avete visti anche voi. Quindi ecco, questa cosa per dirvi che intanto forse il primo impatto inganna un pochettino e vi dico che mai avevo avvertito questa cosa così tanto come con lui. Quando poi sono rientrato a casa e ho rivisto certi scatti che mi ricordavo, mi sembravano veramente tragici visti qui, nel senso che mi non soffrire di certi difetti in maniera veramente pesante, sul PC sia un po' tutto, sullo schermo del computer sia un po' tutto affievolito e normalizzato. Su dispositivi come iPhone ad esempio capita spesso e volentieri il contrario, quindi sarò ignorante ma non vi so ben dire a cosa è dovuto questo effetto, forse ci dilungheremo troppo ma ecco questa cosa c'è, magari tenetene conto. Gli altri due invece veri e propri difetti sono i chi stessi che vi avevo segnalato nello scorso video, grosso modo. A livello di feeling adesso l'ho provato su strada e secondo me non ci siamo, è un po' lento, un po' goffo, non c'è un tasto rapido che mi porta subito alla fotocamera purtroppo, così come non c'è sull'iPhone del resto. Non si può personalizzare l'interfaccia in nulla, la modalità Pro è molto lontana dalla modalità foto e questo sarà un problema tutto mio ma mi dà abbastanza fastidio. Non ci sono tasti rapidi di nessun tipo, voglio attivare una griglia, voglio cambiare un formato, voglio fare un passaggio di qualsiasi cosa, non c'è nulla in questa interfaccia, devo per forza entrare nelle impostazioni e poi ci sono, guardate, tante piccole cose, ad esempio non so, se scatto in Pro seleziono RAW nella camera principale, le altre due camere scompagliono, non posso più fare i passaggi, devo ricliccare, selezionare JPEG e lì poi posso cambiare camera e poi se voglio tornare a RAW, insomma è un po', l'ho trovato un po' meccanico, non mi dispiaciono le interfacce particolarmente scarne se parliamo di fotografia su smartphone, ma a questo punto me la fai proprio come iPhone, iPhone ha una modalità foto, posso attivare il RAW, fa tutto lui, posso disattivare il RAW, fine. Lo Xiaomi ha 3000 combinazioni, RAW, Ultra RAW, RAW A50, Ultra RAW A50, con le camere secondarie però non puoi scattare A50 eccetera eccetera, però non ti blocca mai, non succede che se vado in una modalità supportata solo dalla camera principale non posso poi fare uno switch ad esempio tra le camere, questo mi rallenta molto l'esperienza e come questa cosa ce ne sono tante altre piccoline che un pochettino sono un po' semplicemente segno secondo me di uno forse un po' immaturità, seconda cosa è uno smartphone che semplicemente punta su altro, quindi c'è anche giustamente da considerare questo, loro puntano tantissimo sulla modalità punta e scatta, quindi modalità foto in automatico senza troppi fronzoli, però ripeto a quel punto mi fai come iPhone, invece qui è come se avessi 3000 cose ma sono tutte un po' castrate, quindi c'è qualcosa che non torna nell'experience in generale con l'app stock. La terza e l'ultima cosa, anche questo forse è un difetto un po' di gioventù, non lo so, software un po' ballerino, la camera un po' di volte mi si è impallata, lo scatto non è particolarmente veloce neanche in JPEG in automatico, siamo proprio molto lontani dai diretti concorrenti di questa fascia di prezzo, anche il passaggio tra le varie camere è un po' lento, sempre in modalità punta e scatta, per questo sono un po' collegati questi due difetti, c'è qualcosa nell'experience generale che rende tutto un po' meccanico. Insomma, lui non è completo come un S23 Ultra, non è affidabile nel punta e scatta come un iPhone, non punta sulla forza bruta, su un hardware incredibile, sulle collaborazioni con grandi brand di fotografia come ad esempio Fanno Vivo e Xiaomi, non è particolarmente maturo, non ha molta personalità, sto parlando solo del reparto camera ovviamente, non sforna di conseguenza dei file particolarmente incredibili, ripeto molto buona la 1x, in linea più o meno con i super top, ma le altre a confronto stiamo secondo me un paio di gradini sotto, eppure è stato incoronato Best Cameraphone da Dixomark e a seguito di questo c'è stata una cantilena, mi perdoneranno ma mi viene da chiamarla così, di recensioni tutte molto molto simili tra di loro, cosa che tra l'altro spesso accade. Ora questa non vuole essere una critica al mondo delle recensioni, in particolare delle recensioni italiane, alla fine si tratta di giornalismo, si è molto vincolati anche al fare le cose molto velocemente, quindi non è facile, specialmente considerando che loro devono parlare del telefono a 360 gradi, che è una cosa difficilissima che io non riuscirei mai a fare. Quello che però ritornando allo screen dell'inizio mi viene in mente e penso è che su questa fascia di prezzo che ormai si è consolidata, è la fascia dei super top di gamma, siamo oltre 1.000 euro, 1.200, 1.300, 1.400, questi sono i prezzi. L'unica cosa che distingue e dà motivazione al brand di piazzare quel prezzo lì, di piazzare il telefono su quella fascia lì, è la fotocamera. Raramente ci sono altri motivi. Di conseguenza il pubblico indirizzato verso questi modelli, queste fasce di prezzo, è particolarmente attento a questo reparto. Ma tanto tutti usano solo il punte scatta, capirai? A parte che questa cosa secondo me non regge più nella nicchia di persone che vanno a spendere così tanto per uno smartphone, tolti appunto casi eccezionali come iPhone, come chi vuole l'S23 Ultra perché c'è la S Pen, la produttività e tutto quanto. Ma chi guarda questi modelli, un Honor, uno Xiaomi, un Vivo, un Oppo da oltre 1.000 euro principalmente, secondo me, lo fa per la camera e che sia un appassionato, un amatore, un professionista a cui serve per lavoro eccetera, non lo fa con superficialità. Possono quindi permettersi le recensioni di essere superficiali fino ad arrivare a commettere errori come è stato fatto per la narrativa che ha accompagnato questo Honor Magic 5 Pro? Secondo me no. Dove sta nascendo secondo me un'utenza che non è più una piccolissima nicchia, diciamo che sta diventando una piccola nicchia che secondo me crescerà sempre di più, che è un po' più attente, che è molto più esigente perché il livello si sta alzando, non si può dire che negli ultimi due anni non ci sia stato un bel salto lato camera e ragazzi si andrà avanti in questa direzione secondo me ancora per molto. Le recensioni non possono più permettersi secondo me di fare anche così con leggerezza anche involontariamente una cattiva o superficiale informazione. Lui è stato beneficiario o vittima proprio a secondo dei punti di vista di questa cosa è un esempio secondo me lampante, eclatante, non è un accanimento contro Honor, è un telefono che secondo me maturerà, che nel punto e scatta troverà una sua dimensione, che con la camera principale se la gioca con tutti i super top senza problemi non è quello che ci hanno descritto e quindi ritorno un po' al titolo. I file li abbiamo visti, un po' di difetti li abbiamo analizzati, i confronti li abbiamo fatti, perché ci avete preso per il culo?